Pace e bene cari fratelli e sorelle, ben trovati! Inizia il tempo di avvento, tempo forte dell'anno liturgico che viene a svegliarci come un potente squillo di tromba, ricordandoci il senso ultimo della nostra vita, incontrare il Signore che viene. È venuto duemila anni fa nell'umiltà, dunque ci prepariamo a celebrar bene il Natale. Ne attendiamo la venuta nella gloria alla fine dei tempi, e dato che non sappiamo quando è, c'è da essere desti. E viene ogni giorno, nascosto nei sacramenti, nella chiesa, negli altri, specie nei poveri e sofferenti, negli eventi della vita. Questo tempo, detto in altro modo, ci ricorda che ogni giorno ci vengono offerte tante grazie, tante occasioni per crescere, per amare, e non dobbiamo lasciarcele scappare, come un arciere che per fare centro punta al bersaglio, senza lasciarsi distogliere dai passerotti che volano. Dunque, come possiamo vivere bene questo tempo? Tre punti. Primo, sollevare il capo. Secondo, non appesantirci. Terzo, vegliare pregando. Vediamo un po'. Partiamo dal primo. Sollevate il capo. Parliamo di esercizi per la cervicale, o di ginnastica, per carità, quella serve pure, ma qui semmai parliamo di ginnastica dello spirito. Il Vangelo inizia con Gesù che parla delle realtà ultime e degli sconvolgimenti cosmici che accadranno. Ecco, usa termini apocalittici che colpiscono. Segni negli astri, fragore del mare, sconvolgimenti cosmici, gente che morirà di paura. Quando accadranno tutte queste cose, dice Gesù, allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria. Voi risollevatevi e alzate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Il Signore ci sta dicendo quando arriverà quel momento, quello sconvolgimento, bene, io proprio lì vengo. Proprio lì vi vengo a salvare. Dunque, sollevate il capo. Capiamo bene, qui c'è qualcosa che non riguarda solo la fine, ma in fondo riguarda la nostra vita quotidiana. Quante volte affrontiamo degli sconvolgimenti? Crollano certezze, vengono meno persone a noi care, incombono malattie, fragori di crisi inaspettate. Insomma, mettiamo dentro tutto ciò che sconvolge il nostro quotidiano. Il Signore cosa ci dice? Non lasciarti andare alla tristezza, non abbassare il capo, non ripiegarti tristemente su di te, ma solleva lo sguardo perché io vengo a salvarti proprio lì. Nei momenti di crollo, di sofferenza, di difficoltà, Dio non è lontano. Si fa ancora più vicino per salvarci non tanto dalla sofferenza, ma nella sofferenza. Proprio lì, quando ti senti a terra, quando pensi che non c'è più nulla da fare, bene, quella terra che ti sostiene è sempre e di nuovo Lui. Lui che non ci molla, che ci viene incontro e ci ripete non abbatterti, alza lo sguardo, io vengo a salvarti. Dunque, impariamo a riconoscere le visite di Dio che non ci molla, nemmeno nei momenti più difficili, anzi, soprattutto lì ci viene incontro. Secondo, per vivere bene questo tempo non appesantitevi. Si tratta di fare una buona dieta mediterranea, di non esagerare con fritture e dolciumi. Per carità, questa pure serve, ma chiaramente c'è qualcosa di più. Cosa ci dice Gesù? State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in che cosa? Dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Abbiamo qui tre appesantimenti del cuore. Di cosa si tratta? Primo, le dissipazioni. Il termine in greco riguarda l'uso e il consumo sregolato dei beni. Un rischio grande è quello di disperdersi in tante cose inutili, attaccare il cuore a tante cose inutili, fare mille cose insieme senza completarne una per bene. In una parola potremmo dire sprecare, sprecare il potenziale di bene che ci è stato dato, avere tante occasioni belle ma non sfruttarle. In natura, se vogliamo che le piante portino buoni frutti, vanno potate. Se nello sport vuoi raggiungere buoni risultati, ti devi concentrare sull'essenziale, darti un ritmo di vita sano. Se non lo facciamo anche nella vita spirituale, noi rischiamo di disperderci. Ecco perché un esercizio importante può essere rivedere le priorità, rivedere i nostri ritmi di vita, il nostro stile di vita e chiederci ma questa attività, questa cosa che faccio, questa cosa a cui tengo è realmente importante? Serve o appesantisce? Mi porta ad amare di più di io e gli altri o è una zavorra? Abbiamo poi le ubriachezze. Oltre al vizio del bere, possiamo vedere nell'ubriachezza l'eccesso di ciò che dà piacere immediato, tutto ciò che narcotizza, che distoglie dalla fatica del bene che siamo chiamati a compiere qui ed ora. Dunque non solo l'alcol ma le droghe, l'eccesso del gioco, dell'uso del cellulare o il rifugiarsi continuamente nell'iperuraneo dei propri pensieri o attività che danno piacere sì ma distolgono dalla realtà. Per evitare che ciò accada un suggerimento utile è quello di darsi dei tempi, darsi una regola di vita in modo tale da custodirsi e non disperdersi. Un conto è lo svago sano, altro conto è la dispersione compulsiva in ciò che lì per lì ti dà piacere ma che ti porta a fallire. Ecco pensiamo al nostro signore in croce quando rifiutò quella bevanda narcotizzante perché volle rimanere lucido sino alla fine. Se Gesù avesse accettato forse non ci avrebbe lasciato le famose sette meravigliose parole che ha detto dalla croce tra le quali padre perdonali perché non sanno quello che fanno o sete tutto è compiuto la consegna di Maria al discepolo amato e viceversa. Insomma ciò che può appesantire il cuore sono quei piaceri immediati che ci distolgono in un modo in un altro dal bene che qui ed ora siamo chiamati a compiere. E infine abbiamo gli affanni della vita cioè vivere senza confidare nella provvidenza del padre come se tutto fosse solo sulle nostre spalle, nevrodicamente intenti a cercare sicurezze materiali, sempre di corsa per nuovi obiettivi e l'affanno del possesso, vivere preoccupati, vivere con un cuore immerso occupato in ciò che si fa al punto da perdere di vista chi siamo e chi abbiamo accanto. Infine, terzo e ultimo punto, per essere pronti a incontrare il Signore che viene e cogliere le occasioni di bene che ogni giorno abbiamo c'è da vigilare. Non so se vi è mai capitato di dormire di notte all'aperto in un bosco. Come dormite? Male, nel senso non vi sfugge niente. Vegliate, siete attenti. Ecco, uno nella notte è desto, è attento a ciò che accade. Vigilare vuol dire essere attenti a ciò che accade, essere attenti a ciò che vale e non solo. C'è da vigilare pregando, rivolgendo dunque il cuore a Dio, vivendo alla sua presenza e della sua presenza. Questo ci dà la forza di sfuggire alle tentazioni, di cogliere le occasioni di bene che abbiamo e di attuarle. Chi non crede nella preghiera o la trascura fondamentalmente pensa di farcela con le sue forze, ma un minimo di realismo e di concretezza ci aiuta a vedere che le nostre forze non bastano. Abbiamo bisogno di essere sostenuti, sorretti e rafforzati dalla grazia di Dio. Chiediamo la grazia che questo tempo d'avvento possa essere per tutti noi un tempo significativo, così da imparare a sollevare il capo, per riconoscere le tante visite e grazie che ogni giorno il Signore ci offre, alleggerendo il cuore da tutto ciò che lo appesantisce, attenti a ciò che vale, puntando sempre all'essenziale. Sapendo che, come ha detto padre John Powell, il Signore ci chiede di essere vigilanti e pronti perché non possiamo conoscere in anticipo l'ora in cui viene a visitarci con un intervento speciale. Dio verrà da me e da te a modo suo e quando vorrà. A volte siamo tentati di comportarci come coloro che addestrano gli animali con i cerchi. Chiediamo a Dio di venire e di saltare attraverso i nostri cerchi proprio come vogliamo noi, ma alla fine scopriamo che Dio non è un animale ammaestrato. Dio sceglie i suoi momenti e i suoi mezzi. La nostra fiducia ci dice che Dio verrà al momento migliore e nel modo migliore. La nostra parte è solo di essere pronti per questi momenti speciali. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.